Per amalgamare le energie. Punto F. Attraverso Francesca R. 17 aprile 2023 a cura di VB. Guida. Vi siete chiesti a cosa serve questo cambio di posizioni? Domanda. Per amalgamare le energie? Guida. Non solo per quello. Quando si è collegati ognuno ha il suo esatto posto, perché ognuno ha delle qualità specifiche e solo nell'esatto posto le può esprimere correttamente. Altrimenti non può manifestare la propria utilità nel più corretto modo possibile. A cosa serve manifestare all'interno di un cerchio la propria utilità? Non solo a permettere a noi di manifestarci sempre più profondamente e quindi migliorare sempre di più la nostra capacità comunicativa ed espositiva e, nello stesso tempo, conoscitiva da portarvi. Ma per far sì che qualunque nostra parola risuone a livello vibrazionale, dentro di voi e dentro tutti voi, vi permetta una crescita esperienziale. Quindi l'esatta collocazione è molto più importante di quello che voi pensiate, tanto più se si fa parte di una fratellanza animica. Da te mi aspettavo la domanda di che cos'è una fratellanza animica. Domanda, scusa, io sono un po' sordastro. Fratellanza animica, similitudine di qualità spirituali, affinità. Guida, affinità certo, ma nel nostro caso le affinità hanno origini molto lontane, esperienziali. L'altra volta abbiamo parlato della conoscenza delle persone, di Anna Maria e Giuliana. Bene, avete sempre tutti fatto parte delle vite di tutti. Questa è la differenza, tra di voi si intende. Domanda, quindi come dicono anche in altri luoghi, nessuno è qui a caso. Guida, nessuno. E questo a prescindere da quanto possiate andare d'accordo, litigare, discutere, avvicinarvi, allontanarvi. Siete molto più legati di quello che pensate. Domanda, mi sbaglio o lo strumento parla con molta più scioltezza di quella che aveva la volta scorsa. Guida, non sbagli. Se ben ti ricordi, quando abbiamo riiniziato questo percorso, abbiamo detto che lo strumento avrebbe subito degli intervalli e che questi intervalli sarebbero dipesi dalle frequenti problematiche dovute alla salute dello strumento. Questo non significa che noi non lavoriamo contemporaneamente con lo strumento. Anzi, di solito, dopo una di queste problematiche, il tutto diviene sempre più profondo. Perché è un po' un morire dello strumento a se stesso. Domanda, posso chiedere se noi come fratellanza possiamo dare supporto a livello vibrazionale quando lo strumento lo può richiedere e in che modo? Guida, come strumento del suo cammino lo strumento deve imparare a chiedere. Come strumento del vostro cammino deve impegnarvi ad essere correttamente prudenti. Domanda, quindi noi non possiamo aiutarlo, a prescindere che lo strumento lo chieda o meno. Guida, non serve. L'aiuto che serve è esserci quando lo strumento riuscirà a chiedere aiuto. Ma è abbastanza lontano questo momento. Fa parte del karma esperienziale dello strumento, che non vi può essere rivelato fino a che non lo vivrete. Ovviamente non posso dire tutto, proprio perché ho detto che siete più legati di quello che pensate. E così. Domanda, questa reticenza nel parlare di noi e del nostro futuro è comune a tutti i grandi cerchi. Guida, perché la verità è sempre e solo una. Non può snaturarsi o cambiare. La metodologia è quella.